ma salve bentornati o dovrei dire welcome back sono felipe ceverri conosciuto del web come electric ok ho provato a imitare sabacu per poco tempo e non ci sono riuscito molto a lungo sono tornato a essere subito quel folle che conoscete voi ma come avrete visto nel titolo torniamo a fare suba tuba suba tuba com'è che dicevo lo sciò che non stufa lo sciò non mi ricordo più prima di iniziare questo super tuber devo dirvi però una cosa piuttosto magica tra l'altro questo super tube è sponsorizzato questo video è portato a voi da wonder share il software di ritocco che più in particolare vogliono promuovere in questo video è photo fire o photo fear non so come si pronuncia con questo software potrete clonarvi magicamente o addirittura cancellare con estrema facilità lo sfondo di una foto cosa molto comoda per chi fa le copertine su youtube potrete applicare una quantità davvero industriale di filtri non ho mai visti così tanti in una sola app la cosa più interessante però secondo me è che a tutte quelle funzioni di tutti i programmi di editing estremamente costosi ad un prezzo modico quindi non solo non ha nulla da invidiare rispetto alla concorrenza ma i tool che vi fornisce sono per veri pro sono davvero professionali non c'è che dire io stesso che lavoro con le foto l'ho provato e mi sono trovato piuttosto soddisfatto grazie wonder share ringrazio sinceramente lo sponsor lascio i link in descrizione per andare a supportare lo sponsor supportare quindi anche me così che la proprietà transitiva abbia un senso e spero vivamente che altri super tu per possano essere sponsorizzati proprio per la la quantità di tempo necessaria per produrre un super tu per grazie ancora fatto sta che questa volta le votazioni sono state un po un po particolari andiamo da vedere siccome volevo riprendere abbastanza ispirato il super tu per dato che in pausa davvero da un sacco di tempo per questioni lavorative di tempo perché chi magari segue questa serie da un bel po da quando è nata saprà che i tempi di produzione di un su patuba sono piuttosto lunghi soprattutto dopo quella fase di miglioramento che ho subito che ho attraverso la quale sono passato all'inizio di quest'estate e che ci sono ancora in mezzo in realtà un super tu per tra disegno e editing può richiedere dalle 12 alle 14 ore quindi tornare a farlo vuol dire che ho voglia di farlo voglia di disegnare di perderci tempo nei dettagli nelle cose nel colore ma soprattutto nel diventare in qualche modo più efficiente perché nel mondo d'oggi chi assume un disegnatore per qualunque motivo e c'è kirk qui dietro sì che è venuto a casa da oggi soltanto e apparirà ogni tanto in video qui che vaga stavo dicendo perso il filo nel mondo d'oggi quando un disegnatore viene assunto viene vista non soltanto la bravura ma anche l'efficienza il tempo di produzione importantissimo magari anche la versatilità perché un disegnatore può essere assunto proprio per il suo stile ma un altro può essere assunto perché vuoi pagare semplicemente le bollette e quindi ti dicono devi farmi questo lavoro con questo stile e se tu sei un un ragazzo bravo e versatile lo fai io penso di rientrare ancora in questa categoria perché sia uno stile vagamente distinto ma che ancora fa fatica a trovare proprio una solidità un qualcosa che dica a quello un disegno di peo perché se vedete la produzione I love cats la linea dei vestiti di sabrina poi vedete un super tuber sono due stili completamente separati o libro veri amici dei mates in confronto è proprio ancora un altro stile molto più sull'americano questo perché ovviamente mi sono incentrato sulla possibilità di lavorare prima di tutto ma bando le cianci abbiamo parlato fin troppo quindi ho deciso per iniziare appunto ispirato ho deciso io il super tuber ho detto durante questo periodo questo mese questo progetto segreto di cui vi ho parlato in altri video mi ha fatto un'estrema compagnia il buon sabaku no maiku io molto spesso disegno e affianco sempre un video dei miei youtuber preferiti che in particolare quelli che sono davvero dei bravi parlatori no? è proprio per questo ho detto facciamo sabaku ma soprattutto sabaku no maiku sarà supereroe o super cattivo ve l'eravate scordata questa vaga sigla? beh sabaku no maiku è super cattivo al 69% 69 coincidenze non credo proprio potremmo pur star qua a parlare di quante spade lungo il tuo monitor di quanti monitor è lungo il tuo pollice o quanti pollici è lungo il tuo pene ma vi presento piuttosto i poteri che ho proposto da votare il primo il controllo della sabbia tipo gara derivante dal nome mike of the desert perché sabaku appunto due nomi su youtube e sabaku no maiku ma mike of the desert penso nella community dei souls o in generale nei forum suppongo forse un nome storico controllo delle anime tipo hollow knight che vince con il 57% hollow knight che non sono ancora riuscito a finire perché ogni volta che inizio un gioco ultimamente arriva qualche bomba di lavoro o problemi e cose e finisce che rimane lì in pausa e quando lascio un gioco troppo in pausa finisce che lo rinizio da capo ma questi sono affari miei giusto vabbè poi c'era la super vista e il cavaliere oscuro che pensavo proprio il cavaliere oscuro classico il dark knight di dark souls per capirci detto questo direi che andiamo sul profilo instagramma instant grammar come lo chiamate voi giovani di sabaku per prenderci un po di immagini di riferimento e queste sono le immagini di riferimento che ho scelto per sabaku tra cui il suo elmo classico che in tutte le copertine tutte le sue produzioni ma adesso cercherei anche un po di ispirazione artistica se così vogliamo dire bene penso che possiamo iniziare ho qui aggiunto le immagini di riferimento sempre per aiutarmi da un punto di vista ispirazionale un personaggio alquanto cupo e hollow knight per lasciarmi vagamente appunto ispirare da questi ma iniziamo devo lavorare bene sulla posa innanzitutto vorrei inizio ho in mente una posa in cui una mano è distesa frontalmente che lancia anime e cose magiche mistiche e l'altra vorrei che reggesse l'elmo l'elmo che questo qua come riferimento ma l'elmo forse lo facciamo bianco perché ho in mente il riferimento di hollow knight ha senso penso di sì parlando con molti di voi al games week ho notato che c'è un serio interesse nel disegno stesso quindi se mi se mi viene naturale spontaneo cercherò di parlare un po di più sul cosa sto facendo e perché ma in genere sul super tuber durante il super tuber io parlo soltanto durante la fase di schizzo poi sappiamo che acceleriamo tutto in giostrazione colore come vedete qui il braccio lo sto tenendo bello piegato perché qui voglio che tenga l'elmo voglio che stia qui infilato l'altro corno dovrebbe teoricamente sbucare da qui dietro ma lo voglio molto più tipo hollow knight quindi faremo le cavità ovali simpaticamente ovali come se fosse fatto d'osso perché quella è l'impressione che mi dà hollow knight anche se dovrebbe essere più tipo esoscheletro perché loro dovrebbero essere insetti il mondo di hollow knight dovrebbe essere un mondo di insetti da quel che ho capito qui il deltoide quindi è abbastanza teso perché lo sto sfruttando no quando tiro sul braccio il deltoide è duro e rigido e contratto si intravedrà un po di grande rotondo un po di dorsale il precipite sotto forse anche quello un po teso fammi vedere sì il precipite teso quando tendo il braccio vedete io faccio la prova la prova del 9 e farlo io ok è teso il muscolo dell'avambraccio ruota secondo l'andamento del polso ok guardatemi cioè guardate la telecamera io sto disegnando con un cacchio di braccio teso aia proprio dopo oggi che mi sono allenato la posa della mano in questo caso lo vorrei un po così ce la vorrei non tesa non piatta tipo big bang attack cioè non stiamo facendo vegeta stiamo facendo un lancio delle anime con qualcosa di quasi mistico quindi sarà qualcosa di sì puntato verso avanti però non teso non violento pollice a più senso che stia qua doveva finire il radio quindi l'ossicino qua un po mi si vede un po mi va fuori specchio velocemente per vedere se c'è qualcosa fuori proporzione continuo a disegnare specchiato infatti questo braccio qui l'avambraccio in particolare è un po troppo corto e grazie gli strumenti digitali che il mondo contemporaneo mi fornisce posso aggiustarlo in un attimo non devo cancellare proprio tutto per questo che si lavora in digitale no tempo di produzione e se vuoi essere un purista poi anche esserlo è io stesso faccio molte tavole originali su carta ma quando so che ho molto tempo a disposizione per quella produzione lì come il diario dei mezzo che vi ho fatto vedere la tavola originale che tra l'altro è a casa dei miei in custodita dovrei portarla qua e che devo ancora decidere cosa farci poi regalarla sfruttarla tatticamente per fare i nuovi iscritti tipo un giveaway mi raccomando per vincere questa tavola devi condividere x e sottrarre y dire a tua nonna di seguirmi al cane al gatto mettere mi piace a tutti i miei video piuttosto esagerato si lo so adesso vorrei trovare una posa elegante anche per le gambe e stavo guardando quelle di questo disegno qui perché non mi dispiace affatto sembra che stia sulle punte su quel disegno lì e forse lo voglio fare un po che fluttui ma come l'ho fatto io sembra semplicemente estremamente teso non mi sembra il risultato che cercate però non voglio eliminarle subito perché non sono scorrette sono indeciso perché questa cosa qui che sembra molto tesa e non proprio esteticamente bellissima seguendo una strategia di buon design se così vogliamo dire dell'abbigliamento del nostro personaggio potremmo anche trovare una soluzione adeguata al tutto quindi innanzitutto andrei intanto perché no a definire il viso del nostro caro sabato nomaiku che per fortuna a differenza di altri youtuber che abbiamo trattato ha dei tratti ben distintivi e inoltre a differenza di molti altri youtuber che abbiamo fatto questo io lo guardo lo consumo non nel senso che lo guardo così tanto da consumarlo sia chiaro gli faremo il suo classico sorrisetto come vedete sempre più alto da un lato devo definire un pochino un pizzichino una barba che segue la basetta e si unisce i capelli l'orecchio l'occhio lo facciamo bello aperto ma come mi piace già come mi è venuto mamma mia quante volte abbiamo dovuto cancellare altri youtuber quante ve lo dico io tante troppe gli occhiali facciamo in modo che siano proprio i suoi che non ce li inventiamo i capelli mamma mia qui già si vede un errore clamoroso nella spazialità della faccia della fronte in particolare lo aggiustiamo immediatamente quindi secondo me sul viso ci siamo e lui è un po più pompato del solito ma il supertuber è questo no è pompare youtuber fa parte del gioco possiamo al massimo stringere un po il braccio perché quello si è troppo pompato il destro rispetto al sinistro e andiamo lavorare sull'abbigamento che voglio molto dark molto molto scuro quindi voglio un collo ampiamente coperto sto seguendo un po le ispirazioni di questo disegno qua questo qua un collettone voglio un mantellone il mantellone lo voglio e voglio che che sia simmetrico come tante cose che mi piacciono ultimamente è la simmetria la simmetria già di suo già soltanto una cosa vagamente asimmetrica rende il disegno più interessante infatti molti character design che apprezzo di solito sono asimmetrici una cosa che in architettura va molto dichiarare la simmetria poi dissimularla subito e il mantello questo qua deve richiamare molto hollow night è quello che volevo io quindi deve essere molto frastagliato molto come se fossero quasi dei capelli in realtà è un mantello adesso io direi di accelerare e parlare meno perché questo video già sono sicuro che è venuto fin troppo lungo ma capitemi ultimamente mi piace più parlare e se un video mi sento di dire più cose è giusto che sia più lungo perché stare nei canoni dei 10 minuti di youtube in cui l'attenzione dell'osservatore dopo cala e voi schippate maledetti come giulio giulio schippa manetta porca miseria schippa tutto vedete come alla fine il deltoide i muscoli sono coperti dall'abbigliamento quindi tutto il processo fatto prima per decidere la posa penserete mai inutile se dopo ci disegni sopra praticamente l'abbigliamento perché perder tempo con l'anatomia uno perché ti fa esercitare due perché ti fa fare delle pose più corrette no se già le pensi da da uomo nudo con con i muscoli tirati nel senso giusto contratti nel senso giusto in modo corretto non è senso e secondo me ci siamo questo sarà avrei potuto sicuramente definire un po meglio dettagli cosette così ma lascerò un po di spazio l'inchiostrazione per queste cose anche perché come ho detto i tempi di produzione in supertuber sono lunghi e devo essere più efficiente devo accelerare in qualche modo devo trovare un qualche metodo per farmi andare più veloce è comunque giusto per farvi vedere allora qui c'è kirk che dorme da bravo ciao cane eccolo cane va bene passiamo quindi all'inchiostrazione che sarà velocizzata con musichetta e purtroppo non avendo ancora installato il green screen non ci saranno test edizio peo volanti simpatiche come una volta non ci saranno peo ballerini purtroppo ma magari al prossimo supertuber così sarà chi lo sa tra l'allero e tra l'alà inchiostrazione finita ed è passato a un giorno ma intanto l'inchiostro è finito quindi acceleriamo incredibilmente anche la colorazione tra 3 2 1 buongiorno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma volevo chiudere il video in modo piuttosto speciale perché oggi è arrivato questo pacco da YouTube, quindi niente, volevo aprirlo con voi. Dove sono le forbici quando servono? Ok ce l'ho fatta signori, voilà cosa c'è qui per zio Peo in regalo da zio YouTube. Congratulations on your subscriber milestone. That's what I'm talking about. E che cosa abbiamo qui? Beh è il silver button, è il bottone d'argento. 100.000 iscritti, electric Peo, bambini. Quindi ne approfitto, dato che stiamo inaugurando questo supertuber. Stiamo finalmente riniziando con i video seri, con i disegni quelli impegnativi e spero, anzi spero, un'altra cosa che ho in programma di fare è riprendere un po' i tutorial, visto che al Games Week molti mi hanno fermato per chiedermi se avrei ripreso proprio quelli. Perché tra di voi c'è molta gente che mi segue che sono aspiranti disegnatori, che sono magari studenti dell'artistico, che però vogliono approcciarsi al disegno digitale, cose così. Quindi riprenderò anche quello per la nostra piccola nicchia di artisti. Ma nel frattempo siamo arrivati qui con un audience piuttosto vasto. Ho notato durante il Games Week che l'età del mio audience è estremamente mista. Mi hanno fermato ragazzi di 24 anni, come bambini di 8-12 anni. Ho parlato con molti di loro e realizzato appunto di avere davvero un bel audience. E infatti farò un video a riguardo. Nel frattempo chiudo questo video ringraziando proprio tutti voi che vi siete iscritti. Chi si è iscritto per migliorare nel disegno, per semplice intrattenimento che spero di essere in grado di dare, per i video folli e quasi stupidi che facciamo con Sabrina, Giulio, Andre e gli altri, per i design discutibili magari, che sono un sacco che non tornano su questo canale, per chi si è iscritto fin dai tempi in cui giocavamo a Zelda Breath of the Wild o addirittura a Dark Souls, le live eravamo in 300 gatti. Cioè, parlerò molto più approfonditamente del fatto di quanto apprezzi voi il mio audience in un video successivo, in un cartone animato in realtà, quindi state pronti, voglio tornare a fare anche cartoni animati per puro divertimento. Questo è quanto, spero che questo disegno, questo video vi sia piaciuto. E se così è stato, mostrate tanto amore al pulsante qui sotto, forma di pollice in su, mi raccomando, ma soprattutto ricordatevi che avete appena visto Electric. Boah! Buongiorno! 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 Cosa? Cosa? Cosa?